Sei Ethan? Sì. Ethan, devo andare al 37 della mission in centro. Di che ti occupi? Presto soldi alla gente. Che guaio ti sei cacciata. Devo dei soldi. Quanto? 20.000. Se vuoi entrare in questo business, devi imparare a uccidere. Hai avuto scatti di recente? No. Hai riscosso i debiti della settimana? Ho detto dammi i miei soldi! Mi serviva più tempo! Non sono solo affari. Sì.